Nella vita siamo tutti in viaggio. È un viaggio di crescita, di cambiamento, per diventare la versione migliore di noi stessi. Questo viaggio è ciò che chiamiamo ascensione. Ma cosa significa esattamente ascensione? E come possiamo percorrerla insieme? L'ascensione è come scalare una montagna. Si tratta di andare avanti, crescere ed evolvere come individui, e come comunità. Ma non si tratta solo di raggiungere la cima, bensì del viaggio stesso. Si tratta di accogliere il cambiamento e la trasformazione, a ogni passo del cammino. Perché l'ascensione è importante. Beh, vedetela così. La vita è piena di sfide e di opportunità. L'ascensione ci aiuta a navigare attraverso queste sfide, e a cogliere queste opportunità. È come avere una mappa che ci guida verso il nostro vero potenziale. Mentre l'umanità avanza, stanno avvenendo grandi cambiamenti. Ogni volta che le persone iniziano a pensare e a capire meglio le cose, è come un'onda che ci solleva. È una cosa enorme nella nostra storia. E in questo momento ci troviamo nel bel mezzo. È un periodo di grandi cambiamenti, in cui ci stiamo svegliando a nuove idee, e modi di vedere il mondo. E questo è solo l'inizio. Siamo sull'orlo di qualcosa di straordinario, in cui possiamo diventare versioni migliori di noi stessi. È come se fossimo spinti in avanti dalla forza dell'evoluzione, verso un futuro pieno di possibilità. Quindi, prestiamo attenzione a ciò che accade intorno a noi, e sfruttiamo questa possibilità di crescere e cambiare in meglio. Continuando a percorrere questo viaggio di ascensione, ci stiamo dirigendo verso dimensioni superiori. Stiamo seguendo il percorso del cambiamento e della crescita. Ascensione significa non solo salire, ma anche migliorare come persone. È come se ci lasciassimo alle spalle i vecchi modi di pensare, e ne accettassimo di nuovi e migliori. Il percorso di ascensione si snoda davanti a noi come una strada tortuosa attraverso le montagne. Ogni passo che facciamo ci avvicina a uno stato superiore dell'essere. L'ascensione non è sempre facile, è come scalare una collina ripida, ma la vista dalla cima ne vale la pena. Lungo il cammino, ci liberiamo del peso di vecchie credenze e abitudini, facendo spazio a una nuova crescita. Queste sfide potrebbero indurci a rinunciare, o a tornare indietro. Ma è importante ricordare che il superamento di queste sfide, fa parte del viaggio. Ogni ostacolo che affrontiamo, ci rende più forti e resistenti. E non dobbiamo affrontare queste sfide da soli. L'ascensione è un viaggio che facciamo insieme. Ci siamo dentro tutti insieme, sostenendoci e incoraggiandoci a vicenda lungo il cammino. È come avere una squadra di sostenitori, che ci incita a scalare la montagna della vita. E mentre saliamo, diventiamo più connessi a noi stessi, agli altri e al mondo che ci circonda. Quindi, continuiamo ad andare avanti, un passo alla volta, sapendo che ad ogni passo ci avviciniamo alla vetta del nostro vero potenziale. Ma come si naviga in questo viaggio di ascensione? Come mantenere la rotta quando il cammino da percorrere sembra incerto? La chiave è affrontare il viaggio con curiosità e apertura. Invece di temere l'ignoto, possiamo scegliere di accoglierlo, vedendolo come un'opportunità di crescita e di scoperta. E quando incontriamo delle sfide, possiamo trarre forza dai legami con gli altri. Costruire relazioni di sostegno all'interno della nostra comunità può aiutarci a superare anche i momenti più difficili. Insieme, possiamo superare qualsiasi ostacolo che si frappone al nostro cammino. Ma l'ascensione non consiste solo nel superare le sfide, ma anche nel celebrare i nostri progressi. Lungo il cammino, raggiungeremo pietre miliari, e otterremo cose che non avremmo mai pensato possibili. È importante prendersi il tempo per riconoscere e celebrare questi risultati, per quanto piccoli possano sembrare. E mentre continuiamo il nostro viaggio di ascensione, possiamo guardare avanti con speranza e ottimismo. Le possibilità di crescita e di evoluzione sono infinite. Rimanendo impegnati nel nostro viaggio, e sostenendoci a vicenda lungo il percorso, possiamo raggiungere nuove vette di realizzazione e felicità. In conclusione, l'ascensione è un viaggio che stiamo facendo tutti insieme. Si tratta di andare avanti, crescere ed evolvere come individui e come comunità. Lungo il cammino incontreremo sfide e battute d'arresto, ma con il sostegno della nostra comunità, possiamo superare tutto ciò che ci ostacola. Vi amiamo profondamente, siamo qui con voi, siamo la vostra famiglia di luce, siamo la Federazione Galattica. Aurora, Aurora Ray, ambasciatrice della Federazione Galattica.